Franco Mannella, direttore artistico di Arotron, è partita la stagione estiva del vostro cartellone che andrà avanti fino all'autunno, praticamente accompagnerete tutta l'estate con una serie di eventi quali sono i principali presenti nel vostro cartellone? Il cartellone intanto ha un titolo greco, scritto Kyklos con la Y ma si pronuncia Kyklos mi hanno raccomandato di questa cosa che è coltissima che è un omaggio alla natura, alla ciclicità della natura, al fatto che la natura non si ferma anche quando appare ferma e morta invece è viva ed è un simbolo importante è un omaggio alla natura e ai luoghi importanti perché riteniamo che sia importante proprio ripartire come si dice oggi, ripartiamo tutti, da luoghi importanti noi ci ritroviamo un luogo molto bello nel Comune di Pianella Contrada Santa Scolastica in cui c'è un bel palco che guarda il Gran Sasso, in cui ci saranno i concerti al tramonto una tenda mongola, tenda yurta, in cui ci saranno dei racconti, delle narrazioni e la novità di quest'anno è l'Anfiteatro di Paglia che è stato ricavato in un boschetto nell'alveo di un lago messe insieme queste tre location che stanno in un unico sito lì abbiamo messo i contenuti, cioè i concerti di tanti musicisti il teatro nell'Anfiteatro di Paglia, quindi il teatro sotto le stelle e alcuni racconti particolari nella tenda mongola questo in breve è quello che accadrà la cosa importante è che abbiamo cominciato il 26 con un concerto fra il jazz e il funk con dei giovanissimi talenti abruzzesi e il 4 luglio ci apprestiamo a debuttare in teatro finalmente teatro sotto le stelle con Chekhov una mia regia, due atto unico che sono l'unione di due atti unici classici di Chekhov la domanda di matrimonio e l'orso una farsona, si ride, ci si diverte tantissimo con il teatro poi ci saranno tanti altri ospiti tra cui Franco Arminio che è un poeta e paesologo importantissimo che viene a presentare il suo libro Lettera a chi non c'era chi vuole approfondire sui social, sul nostro sito c'è tutto il calendario con tutti gli appuntamenti